E' allegro stasera, signor Nuova, promessa della letteratura italiana? No, sono decisamente ubriaco. Senti, stavo pensando che appena arrivano i primi soldi, diamo una bella remodernata a questo buco. Oppure cambiamo casa, tu che ne dici? No, è qui che voglio vivere. Ci penserò io da redarla, tu scriverai i tuoi libri ed io penserò la nostra casa. Perché non prendi un'altra bottiglia di vino? Sai che ti fa male? Se ne bevi troppo. Non ti preoccupare, mi sento benissimo. Un altro bicchiere, ti prego. Che sia l'ultimo però eh. Grazie. A Edgar Ray, la nuova promessa della letteratura italiana. Perchè, la nuova promessa della letteratura italiana. Perchè, la nuova promessa della letteratura italiana. Nonno, rispondi? Rispondi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.